Era importante portare a casa i tre punti, ci aspetta una settimana impegnativa, mercoledì giochiamo in casa di Brescia per la seconda Italia, siamo pronti penso, lo spero, però intanto giudiamo questa vittoria, poi da domani si pensa a Brescia. In questo match l'allenatore è riuscito anche a far giocare chi gioca meno, dando parzialmente riposo ad esempio a te o a Zanette o a Member Mene, proprio immagino in previsione dei prossimi appuntamenti. Sì, diciamo che arriviamo da un periodo tosto, adesso non so bene in 13 giorni, 14 giorni, penso che avremmo giocato 5-6 partite, ma penso sia anche giusto dare spazio a tutte le ragazze perché se lo meritano. Lavorano come noi in palestra, quindi anche stasera hanno dimostrato che possono stare in campo, possono giocare, quindi devo dire un bravo a tutti.